Cave di Fantiano, Grottaglie, 12, 13, 14 e 15 agosto 2020, Cinzella Festival. Stiamo dedicando una serie di puntate a questo importante evento. Abbiamo un po' già esposto quelli che saranno gli ospiti con la perla di Diodato giorno 15. Ma vogliamo approfondire con Mimmo Battista di Afrosei. Questo è l'aspetto che più ci interessa perché è importante il momento musicale, il momento dello spettacolo, importantissimo di livello per carità. Però è importante anche la connotazione sociale dell'evento, ossia la funzione sociale in un'ottica di crescita del territorio attraverso la cultura. Un progetto quindi che va ovviamente a far capire che Taranto può vivere di altro, può vivere di cultura, proprio come opposta alla monocultura dell'acciaio. Sì, ecco, ora dirò una cosa per la quale il mio direttore artistico, Michele Riondino, si arrabbierà. Lui è il primo che ci crede davvero in questa cosa, tant'è che questi sono quattro anni che rinuncia totalmente al compenso da direttore artistica, quindi non percepisce una lira. Ma lo fa proprio perché crede nelle potenzialità del territorio e non fa soltanto parole ma fa anche fatti. Perché organizzare una roba del genere, che ormai di livello internazionale, visto anche gli ospiti che abbiamo avuto l'anno scorso e quelli che avremmo avuto quest'anno, tra cui Mark Lannigan è l'unico che ti posso dire perché era stato annunciato ma ce n'erano degli altri veramente incredibili, e noi stiamo già lavorando addirittura per l'edizione 2021. Che cosa significa? Michele Riondino insieme agli altri di Afosei, tra cui Gianni Raimondi, Sabrina Morea, Walter Polpito, che costruiscono il direttivo, siamo anche strutturati dal punto di vista commerciale, poi insieme a tutti i ragazzi. Crediamo veramente in questo progetto, che è un progetto culturale, ma attenzione, il progetto culturale non è un progetto culturale fine a se stesso. Noi crediamo in un progetto culturale che poi sfocia nella economia, crediamo veramente che attraverso la cultura possa crearsi appunto lavoro pulito. Attenzione, il turismo, la cultura per questo territorio non sono gli unici volani utili affinché possa essere sostituito il sistema industriale che fino ad oggi ci ha sostenuti e che ha creato questo sconquasso ambientale, sanitario, ma anche economico. Io dico soprattutto mentale perché bisogna uscire dall'ottica di questa, proprio come forma mendisi, di schiavitù rispetto all'Ilva. La domanda tipica, se l'Ilva chiude cosa si fa? Se l'Ilva chiude si vive di altro, grazie a Dio, si vive di mare, di turismo, si vive di cultura. Guarda, non sono abituato a scadere nella banalità che chiude l'Ilva. Questo è l'elemento che viene contrapposto, no? Ma è un dato di fatto, è un dato di fatto che Taranto, come dicevo nell'altra intervista, è una città europea e mediterranea molto importante che dobbiamo rivalutare, dobbiamo crederci non a parole, mettendoci assolutamente in gioco. E quindi penso che la cultura, il turismo, l'enogastronomia, ma soprattutto la portualità della scelta per la quale siamo venuti qui a Porta Napoli possano veramente costituire nel medio-lungo periodo, nei prossimi 7-10 anni, i veri volani del nostro territorio. Taranto deve assolutamente trasformare il brutto in bello. È una cosa che è stata fatta in altre città e abbiamo le possibilità, tra parentesi, sappiamo benissimo che vivremo certamente nei prossimi anni un'età, un'epoca un po' più felice, visto che ci sono i giochi del Mediterraneo e quelli sono conclamati e quindi l'impiantistica sportiva verrà obbligatoriamente ristrutturata e si creeranno sicuramente anche delle basi culturali affinché Taranto possa veramente guardare, essere sulla cartina geografica. Ecco, io non posso dire i nomi che sono venuti qui a trovarci a Spazio Porto, ma davvero c'è grande attenzione da parte di grandi personaggi della cultura italiana sulla città di Taranto, proprio perché di Taranto finalmente si parla come una città viva dove ci sono tantissimi festival. Fammi ringraziare a nome mio di tutti, di AFO, anche i ragazzi che si mettono in gioco. Ci sono festival come quest'anno, il Taranto Jazz Festival di Antonio Liveti, piuttosto che On The Festival dei ragazzi di Mercato Nuovo che sono degni e dimensioni, quindi possiamo creare una rete importante, culturale, musicale dove ognuno fa la propria parte. Poi ovviamente ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, ma è giusto risaltare l'associazionismo, i privati che si mettono in gioco. C'è grande movimento a Taranto e cerchiamo tutti quanti di darci da fare perché i nostri giovani, non con le parole ma con i fatti, si chiedano prima di partire, ma Taranto sta succedendo qualcosa, si sta muovendo, forse posso avere delle possibilità. In questo senso il Cinzella è un punto di riferimento ormai in Puglia, questo è conclamato, è uno dei più importanti festival del meridione, certamente, insieme ad altri che ci sono nella Puglia, che sono magari più longevi dei nostri, però anche da questo punto di vista siamo contenti del lavoro che stiamo facendo e siamo certi che questo progetto, sottolineo progetto, andrà avanti sempre in maniera molto più consolidata. Grazie.